Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video ragazzi Mare Kamsik rimane ufficialmente a Napoli e questa è la notizia che ci è giunta pochi minuti fa veramente incredibile ragazzi non ho parole di quello che sta succedendo veramente incredibile è saltato l'accordo con il Dalian pazzesco per la modalità di pagamento la modalità di pagamento non andava bene al Napoli perché il Napoli voleva un'unica soluzione quei 15 milioni più 10 di bonus patuiti sabato invece il Dalian avrebbe pagato in più rate poi anche la modalità di acquisto il Napoli aveva venduto Amsik a titolo definitivo mentre il Dalian voleva un presto con l'obbligo di riscatto quindi veramente mancato accordo tra il Dalian e il Napoli quindi salta l'accordo di Mare Kamsik in Cina Amsik rimane a Napoli almeno per altri 6 mesi quindi continua la strada d'amore tra Mare Kamsik e il Napoli quindi non finisce questa grandissima storia calcistica tra il centrocampista slovacco e il Napoli era iniziata veramente 12 anni fa con il gol alla Sampdoria ed era finita veramente in modo incredibile proprio contro la Sampdoria sabato il destino ha voluto questo ma il destino ha voluto anche che Mare Kamsik non andasse in Cina incredibile quello veramente che sono pochi minuti fa perché ragazzi l'addio del centrocampista slovacco era veramente una brutta cosa era una brutta cosa per il calcio italiano era una brutta cosa per il Napoli invece questa notizia almeno in parte forse può rimarginare la frattura forse tra Amsik e la società che si era creata adesso ragazzi cosa succederà Amsik verrà rintegrato quasi ufficialmente in squadra venerdì non volerà a Madrid per fare le visite mediche visto che doveva andare a Madrid per fare le visite mediche con il Dalian invece ragazzi Mare Kamsik finirà almeno questa stagione a Napoli notizia incredibile di pochi minuti fa quindi salta, è saltato ufficialmente l'accordo con il Dalian ragazzi per questo aggiornamento su questa trattativa è tutto io vi ringrazio per l'attenzione se siete tantissimi like iscrivetevi ragazzi al canale seguitemi anche su Facebook e Instagram noi ci vediamo in un prossimo video